Oggi il fitness è benessere, è benessere e divertimento Il centro come c'è la campagna ha creato un grande evento, quindi fatto sì che comunque le persone cominciano a conoscere un po' quello che è il movimento fitness e quello che noi quotidianamente la mattina e la sera sviluppiamo nelle palestre. Benessere vuol dire anche stare in forma, stare in forma vuol dire curare il proprio corpo, quello che è il proprio corpo significa stare in società. Il Fit Pump è una disciplina a volte a equilibrare il rapporto tra massa magra e massa grassa. Il Fit Pump è lo sport diciamo ideale per avere un corpo sano e tonico. Nei centri commerciali il 100% della popolazione ormai è presente dal lunedì alla domenica, ma probabilmente almeno la metà non frequenta i centri fitness, quindi mostrare alle persone che vengono nel centro commerciale quello che si svolge nelle palestre e nei centri benessere può avvicinare una fetta nuova di persone alle nostre discipline fitness. Grazie a tutti!